La graft-host-versus-disease o malattia da rigetto cronico di trapianto è una complicanza del trapianto di midollo osseo di cellule staminali ematiche che si verifica in circa il 40-70% dei pazienti determinando una grave stomatomucosite erosiva. La patologia è causata da anticorpi prodotti dal midollo osseo trapiantato contro i tessuti dell'organismo che lo ospita. Le cellule del midollo non riconoscono le cellule del trapiantato. Il meccanismo alla base è una iperstimolazione dell'apoptosi cellulare. Le lesioni a livello del cavo orale sono molto frequenti e spesso rappresentano le prime manifestazioni della patologia. Tuttavia le manifestazioni orali entrano in diagnosi differenziale con il lichemplanus orale, perciò l'anamnesi è dirimente. Possiamo avere delle forme ipercheratosiche con lesioni più biancastre e delle forme invece atrofico-erosive che hanno un aspetto più rossastro. Possono esserci anche dei sintomi sistemici come immunodeficit, perdita di peso, diarrea, alterazioni dermatologiche ed epatiche. La diagnosi è clinica attraverso l'anamnesi e poi anche attraverso l'istologia dopo la biopsia. La terapia prevede l'utilizzo di farmaci specifici come il tacrolimus, la talidomide, il cortisonici topici e sistemici e una full mouth disinfection. Le erosioni a livello della mucosa orale predispongono al carcinoma orale, perciò una condizione potenzialmente maligna. Ti ricordo che queste informazioni hanno uno scopo puramente divulgativo, per qualsiasi dubbio rivolgeti sempre dal tuo medico.